In Israele prosegue l'escalation di attacchi e rappresaglie che rischiano di sfociare in una vera e propria guerra. Dopo il lancio di razzi su Gerusalemme da parte di Hamas, la reazione israeliana non si è fatta attendere. Alcuni cacci hanno bombardato la striscia di Gaza per colpire obiettivi sensibili. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti e dei feriti. I numeri della pandemia confermano che il Covid-19 nel nostro paese sta allentando la sua morsa. Ieri i nuovi positivi sono stati poco più di 5.000. Un dato che non si riscontrava dallo scorso ottobre è che è il frutto delle restrizioni manche dell'intensa campagna vaccinale. Per il commissario Figliuolo l'obiettivo è quello del milione di somministrazioni al giorno. Le riaperture al centro del confronto Stato-Regioni. La riforma della giustizia va fatta entro l'anno, ammonisce la ministra Marta Cartabia. Il rischio è quello di dover restituire i fondi che arriveranno dall'Europa. Le leggi delega per la riforma dei processi civili, penali e del CSM devono essere approvate entro il 31 dicembre. Pena il blocco dell'intero pacchetto di risorse. Mentre il Movimento 5 Stelle lavora per fare chiarezza sul proprio futuro, il governo gode di un'ampia maggioranza. Le divisioni tra le forze politiche restano le stesse di sempre. Il tema migranti rimane caldissimo e sia nel centro-sinistra come nel centro-destra non decollano le alleanze in vista delle comunali di ottobre. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. In primo piano l'escalation di violenza in Medio Oriente che sta portando la tensione a livelli davvero altissimi. Naturalmente c'è pronto il richiamo della comunità internazionale per un cessate il fuoco. Vediamo. È stata pesantissima nella notte la risposta dell'esercito israeliano alla pioggia di missili lanciati dalla striscia di Gaza su Gerusalemme e per lo più neutralizzati dalla contraerea dello Stato ebraico. Se infatti da una parte gli attacchi di Hamas sulla città santa sono proseguiti per tutta la notte e ancora questa mattina con almeno 250 razzi lanciati verso lo Stato ebraico, l'aviazione israeliana ha colpito 130 obiettivi militari a Gaza. Fonti palestinesi parlano di 20 morti tra cui 9 bambini e decine di feriti sono nelle ultime ore. Le sirene hanno suonato ripetutamente non soltanto nella capitale contesa, a Tel Aviv e in varie altre città israeliane sono stati aperti i rifugi antimissile. È stata superata la linea rossa, avverte il premier israeliano Benjamin Netanyahu con Hamas che dall'altra parte aveva fissato ieri pomeriggio un ultimatum per il ritiro delle truppe israeliane dalla schianata delle moschee dove sono iniziati i venerdì gli scontri che si sono poi allargati alla parte araba della capitale contesa anche per un conflitto legale che riguarda la proprietà di alcune terre dove vivono decine di famiglie palestinesi. Gravi disordini sono stati registrati nella notte anche ad est di Tel Aviv dove dimostranti arabi hanno attaccato alcuni residenti ebrei in due rioni della città e un uomo ha perso la vita. I jet israeliani hanno bombardato anche un tunnel di Hamas nel nord della striscia di Gaza all'interno del quale si trovavano diversi miliziani. Il ministro della difesa israeliano Benny Gantz ha avvertito che i raid contro i gruppi terroristici nella striscia continueranno per garantire la sicurezza di Israele che ha annunciato la chiusura totale immediata del valico di Karem Shalom bloccando così l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. La comunità internazionale chiede calma e senso di responsabilità. Le armi devono tacere immediatamente all'appello del responsabile della politica estera dell'Unione Europea Borrell, mentre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è riunito d'urgenza, non è riuscito a trovare un accordo su un documento comune di condanna. In Italia sul fronte dell'emergenza Covid nelle prossime ore si terrà una cabina di regia tra il Premier Draghi e i rappresentanti della maggioranza per fare il punto sulle riaperture. Poi ci sarà domani un incontro tra Governo e Regioni per rivedere quei parametri che condizionano i cambi di colore delle Regioni, in particolare rivedere la questione che riguarda l'RT. E poi c'è il problema del coprifuoco che divide la maggioranza. Se i dati continuano a migliorare, in settimana vedremo appunto se la tendenza è consolidata. Facciamo il punto. Misure graduali di alleggerimento per rendere irreversibili le riaperture. Con questo spirito il Governo prepara il tagliando al decreto anti-Covid, programmato a metà maggio e ormai imminente. Anche i numeri dell'ultimo bollettino quotidiano confermano la tendenza ormai consolidata al miglioramento della situazione. La fase avanzata della campagna vaccinale per anziani e categorie più fragili incide ormai in modo sempre più efficace e positiva sui parametri che misurano l'andamento della pandemia. Così è sempre più probabile lo spostamento del cosiddetto coprifuoco dalle 22 alle 23, la riapertura dei centri commerciali anche nel fine settimana a partire dal 22 maggio e soprattutto si fa concreta la possibilità di una revisione dei parametri che determinano la classificazione delle Regioni nelle diverse fasce di rischio. Domani una riunione tra i ministri Gelmini e Speranza e i presidenti di Regione dovrà valutare l'ipotesi di sostituire l'indice RT, il valore che misura la velocità di circolazione del virus, con l'RT ospedaliero, dato che tiene conto dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e che ormai da giorni è in costante diminuzione. Nell'ultimo bollettino i posti letto occupati nei reparti di emergenza sono scesi di 34 unità, mentre in lieve aumento, più 7, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari. I nuovi casi sono 5.080 con 130.000 test effettuati, un numero così basso di contagi non si registrava da metà ottobre, sette mesi fa. Il tasso di positività è al 3,9%, 198.000 le vittime nelle ultime 24 ore dall'inizio della pandemia sono più di 123.000. Un altro dato lontano nel tempo è quello relativo ai contagi nei territori. Nessuna regione ha registrato incrementi a quattro cifre. La campagna è arrivata a 943 nuovi casi, seguita da Lazio, Sicilia e Lombardia. Intanto la macchina vaccinale messa in piedi dal generale Figliuolo va avanti con le regioni che addirittura premono per avere più dosi e poter rispettare quei traguardi che lo stesso generale ha fissato. Perché? Perché in alcune regioni alcune dosi di vaccino sono esaurite per quanto riguarda alcune case farmaceutiche. Ne parleremo tra un pochino, adesso andiamo avanti e parliamo della giustizia. Perché? Perché il Ministro Cartabia ha lanciato l'allarme sottolineando il fatto che se le riforme su questo fronte non verranno portate a termine a rischio c'è l'intero pacchetto di aiuti che dovrebbe arrivare dall'Unione Europea. Vediamo. L'attuazione del recovery plan passa anche attraverso la riforma della giustizia e l'accelerazione dei tempi dei processi come chiede la Commissione Europea. Il guarda sigili Marta Cartabia lo ricorda alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato dove chiarisce che è necessaria la riforma del processo civile di quello penale del Consiglio Superiore della Magistratura. Interventi che, avverte il Ministro, se non saranno effettuati bloccheranno l'intero pacchetto di risorse, cioè 191 miliardi destinati al nostro Paese. E la ragione è tutta economica. Infatti, se il nostro sistema non riuscirà ad offrire certezze sui tempi della giustizia, per l'Italia sarà più difficile attrarre investimenti stranieri. Ma il lavoro non sarà facile. Il centrodestra punta ad azzerare di fatto la riforma voluta dalla loro ministra 5 Stelle, Bonafede, ad iniziare dal ripristino della prescrizione, ora molto depotenziata. Un'operazione però che certamente vedrà il movimento sulle barricate, con potenziali riflessi negativi sulla tenuta della maggioranza. E il Ministro Cartabia mette le mani avanti e avverte che chi si sottrae al cambiamento si dovrà assumere la responsabilità di mancare un'occasione così decisiva per tutti. E il suo invito è esplicito. Non solo vanno accantonate le divisioni, ma bisogna correre. Entro la fine del 2021, dice, dovranno essere approvate le leggi delega per la riforma del processo civile penale del CSM. Eppure, nel lagone della politica, il clima e tutt'altro, la Lega ha intrapreso la via solitaria della raccolta di firme per un referendum sulla giustizia e il PD accusa Salvini di fare solo propaganda. Con il referendum butta la palla in tribuna, dice eletta. Il guardasigili comunque si muove su una linea che più che azzerare la riforma Bonafede punta a modificarla e anticipa già alcune proposte, come la sospensione del corso della prescrizione per due anni dopo la condanna in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello. La seconda, più radicale, interrompe la prescrizione con l'esercizio dell'azione penale. Se il processo dura più di quattro anni in primo grado, tra in appello e due in cassazione, c'è l'improcedibilità. E proprio a proposito dei fondi che devono arrivare dall'Europa, la strada non è così lineare perché manca il via libera da parte di alcuni paesi necessario e previsto dai regolamenti europei. Bruxelles intanto dovrebbe analizzare i primi piani, quelli che sono arrivati entro il 30 aprile e se tutto va bene a luglio dovrebbero arrivare i primi fondi. La tabella di marcia non è semplice, soprattutto il tempo stringe perché i soldi del programma Next Generation EU arriveranno solo dopo il via libera previsti dai regolamenti europei. I 750 miliardi di aiuti saranno raccolti dalla Commissione attraverso i buoni del tesoro europei immessi sui mercati finanziari internazionali, ma tutt'oggi sono ancora diversi i parlamenti dei 27 che non hanno ancora autorizzato l'Unione ad emettere le cosiddette risorse proprie. Stando alle norme che regolano il meccanismo del Next Generation, l'erogazione può partire solo il mese successivo a quando è arrivata la ratifica dell'ultimo Stato. In caso di ratifica il 31 maggio, ad esempio, gli euro bond si possono emettere solo a giugno. Al momento però Irlanda, Olanda, Finlandia, Estonia, Polonia, Austria, Ungheria e Romania devono ancora inviare i rispettivi piani. Tre di questi dovrebbero farlo questa settimana. Gli altri esorta la Commissione europea e bene che lo facciano al più presto, entro la fine del mese. Se prima di giugno la ratifica sarà completa, la Commissione potrà così approvare i primi piani nazionali entro il mese prossimo. Poi toccherà al Consiglio europeo, ossia all'organo politico dei 27, dare il via libera definitivo. I primi finanziamenti, un anticipo del 13% della somma prevista per ogni Stato, potrebbero arrivare a luglio, la seconda tranche di fondi a fine anno. In ogni caso, questo sarà il primo esperimento per gli euro bond. Il voto di approvazione delle risorse proprie servirà a dare il segnale alla finanza mondiale che l'Europa fa davvero sul serio. E se sarà una storia di successo, in futuro potrebbero arrivare anche nuove emissioni, non più legate alla pandemia. E torniamo dunque a parlare di vaccini e facciamo il punto della situazione. È il momento di accelerare il passo, dice il commissario Filluolo, di superare l'obiettivo appena raggiunto, quello delle 500.000 immunizzazioni al giorno e puntare a raddoppiarlo nel mese di giugno. Presto entreranno in gioco nuove forze, come le 20.000 farmacie, che potrebbero fare 100.000 iniezioni al giorno e le aziende, e arriveranno più vaccini, previsti per domani 2.100.000 dosi di Pfizer, che risulta esaurito in molte regioni. Seguiranno nuove forniture di AstraZeneca e Moderna. Entro fine mese avremo in Italia 12 milioni di dosi in tutto, a cui si aggiungeranno altri 25 milioni a giugno. Sono diverse le regioni che spingono per avere maggiori quantitativi di fiale a disposizione, come il Veneto, che lamenta l'insufficienza di dosi. Fondamentale sarà il contributo dei medici di famiglia in maniera massiccia, che in tutto il paese sono 43.000, dice il generale. Basterebbe che ciascuno facesse 10 immunizzazioni al giorno, per averne 430.000 in più. Così potremmo arrivare al milione di vaccinazioni al giorno e a settembre potremmo finire la campagna vaccinale. Alle 6 di questa mattina erano 24.500.000 le persone che hanno ricevuto in Italia almeno una somministrazione. Di queste, oltre 7 milioni e mezzo hanno completato il ciclo vaccinale. Quando si raggiungeranno i 30 milioni di vaccinati, quindi la metà degli italiani, si potranno togliere le mascherine, dice il sottosegretario alla salute Sileri. Intanto si sono aperte le prenotazioni agli over 50 e si studia un modo per consentire agli italiani di effettuare richiami anche nei luoghi di vacanza. E si pensa ai più giovani. In America, la Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione di Pfizer agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni e il prossimo mese inizierà la discussione sulla possibilità di estendere i vaccini ai bambini sotto i 12 anni. Sul fronte politico, in primo piano, c'è la questione delle elezioni amministrative. E' saltata l'Alleanza PD-Movimento 5 Stelle a Roma. Probabilmente non ci sarà neanche a Torino. Resta l'ipotesi di Napoli. Anche il centrodestra è alla ricerca di un candidato. Si fa l'ipotesi di Bertolaso. Movimento 5 Stelle, che però è sempre alle prese con le questioni che riguardano i rapporti ormai finiti con la piattaforma Russo. Ma ci sono ancora dettagli da chiarire. Il garante della privacy avrebbe accolto l'istanza di accesso ai dati del Movimento in possesso di Russo presentata dal rappresentante legale. E' lo stesso Vito Crimi ad annunciarlo ai parlamentari 5 Stelle durante la riunione di ieri sera. Conto di avere i dati in settimana, dice. Mentre Davide Casaleggio è tornato all'attacco rifiutandosi di cedere la lista degli iscritti al Movimento fondamentale per il futuro leader per formalizzare la sua leadership. Sostenendo che non rientra nei compiti del garante definire chi sia o meno il rappresentante legale del Movimento. Mentre si profila una guerra legale con l'associazione Russo, Conte accelera nella definizione del suo nuovo progetto politico. Gli iscritti voteranno su una piattaforma diversa che per i vertici non dovrà avere nessun profilo politico. La campagna per le nuove iscrizioni partirà a breve. Oggi una nuova assemblea fare il punto della situazione. I problemi legali con Casaleggio hanno complicato anche le alleanze con i dem in vista delle amministrative. A parte Bologna e Varese dove correranno uniti al primo turno e Napoli dove l'intesa potrebbe convergere su Roberto Fico. Nelle altre città chiamate al voto PD e Movimento correranno separati. Nessun patto a Milano né a Torino e neppure a Roma dove dopo la rinuncia di Zingaretti è sceso in campo l'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Sarà lui a sfidare la sindaca uscente Virginia Raggia al primo turno. I dem sperano di convincere i 5 Stelle a convergere sul loro candidato al ballottaggio. Nessuna certezza anche nel centrodestra si continua a parlare di Bertolaso come candidato comune ma per ora non è stato deciso nulla. Nel frattempo è spuntato anche il nome del senatore azzurro Maurizio Gasparri ma lui nega. Domani ci sarà un vertice senza capi di partito per fare il punto e trovare una soluzione. Sul fronte dell'emergenza migranti Mario Draghi dovrebbe portare la questione al prossimo Consiglio Europeo mentre a breve potrebbe esserci una missione del ministro degli Esteri Di Maio in Libia per trovare un accordo con Tripoli Libia dalla quale sarebbero pronte a partire almeno 70.000 persone. Ogni notte uguale alle altre a Lampedusa con i migranti che continuano ad arrivare in un flusso che con l'arrivo dell'estate è destinato ad aumentare due giorni fa in 700 sono sbarcati e non è finita hanno atteso per ore sul molo seduti uno accanto all'altro con addosso le coperte termiche perché i loro vestiti erano bagnati e l'hot spot che avrebbe dovuto accoglierli era strapieno la guardia costiera li soccorre in mezzo al mare uomini donne e bambini e li porta qui arrivano dalla Tunisia ma anche dalla Libia nelle ultime notti c'erano almeno cinque barche in difficoltà una si è capovolta cinque persone sono morte tra loro c'era anche un bambino sono duemila le persone arrivate nell'ultimo fine settimana siamo preoccupati perché sempre più persone intraprendono questo viaggio pericoloso e la perdita di vite umane è intollerabile finora almeno cinquecento persone sono annegate nel Mediterraneo centrale quest'anno rispetto ai circa centocinquanta morti registrati nello stesso periodo del 2020 ha spiegato la portavoce dell'organizzazione mondiale per la migrazione più del triplo rispetto allo scorso anno secondo i dati del Viminale quest'anno sulle coste italiane sono arrivate quasi tredicimila persone l'Italia non può sostenere gli sbarchi ha detto il leader della Lega Matteo Salvini e ha chiesto un incontro al Premier Draghi c'è bisogno di una qualche forma di meccanismo coordinato e funzionante per le attività di ricerca e soccorso dei rifugiati in mare e questo oggi non c'è è l'appello dell'alto commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi mentre la ministra dell'interno Lamorgete ha invocato con l'Europa un cambio di rotta in vista dell'estate per attivare un meccanismo temporaneo di solidarietà tra gli stati dell'Unione al fine di ricollocare le persone soccorse in mare e evitare che tutto il peso dei flussi estivi ricada solo sull'Italia e siamo allo sport con il calcio che torna già stasera con l'anticipo della terz'ultima giornata a Napoli-Udinese intanto mentre il caso Super Lega continua a far discutere la Salernitana dopo 23 anni torna in Serie A Le regole valgono per tutti se la Juventus non esce dal progetto Super Lega verrà esclusa dal prossimo campionato l'avviso di Gabriele Gravina numero uno della Federcalcio si abbatte sul club bianconero ancora scosso per il pesante KO di domenica sera con il Milan la volata Champions è sempre più complicata ma salvo incredibili tracolli non ci saranno ribaltoni in panchina alla fine della stagione mancano soltanto quattro partite tre giornate di A più la finale di Coppa Italia e cambiare adesso potrebbe addirittura rivelarsi controproducente il vicepresidente Pavel Nedved assicura che Andrea Pirlo certamente rimane e con il tecnico anche Cristiano Ronaldo in visita ieri agli stabilimenti Ferrari di Maranello in compagnia di Andrea Agnelli e John Elkan Pirlo dunque guiderà la squadra anche domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale aperto stasera da Napoli Udinese la formazione di Rino Gattuso attualmente quarta a più uno sulla Juve e a meno due da Atalanta e Milan ha il calendario migliore tra quelle impegnate nello sprint per la conquista di uno dei primi quattro posti e soprattutto ha trovato in Victor Osimena il suo punto di riferimento 6 gol 6 gol nelle ultime 8 gare e 10 complessivi per l'attaccante nigeriano che sta alimentando il sogno Champions dei partenopei attesi il prossimo anno dal derby regionale con la Salernitana dopo quasi un quarto di secolo i Granata tornano in Serie A ma la promozione costringe adesso Claudio Lotito patron anche della Lazio a lasciare la presidenza e accedere le quote del club campano entro l'inizio di luglio le norme federali vietano infatti la multiproprietà nella stessa categoria severe le eventuali sanzioni deferimento dei dirigenti e mancata ammissione della Salernitana al massimo campionato ed è tutto per questa edizione ora le informazioni sul traffico con Valeria Colombo e poi a seguire il metodo di Palo Sottocorona e il dibattito di Omnibus condotto da Gaia Tortora vi auguro una buona giornata grazie a tutti